In questa guida ti spiegheremo come effettuare un payout di token ultima sul sito web Ultima Business. Tieni presente che il tuo portafoglio deve essere attivato per ricevere transazioni. Per attivarlo, devi avere dei coin smart sul tuo saldo. L'importo minimo per l'attivazione è uno smart. Puoi ottenere smart nei seguenti modi. 1. Chiederli a qualcuno di inviarteli. 2. Acquistarli su un exchange e trasferirli sul tuo portafoglio. 3. Tramite lo swapping con altre monete. Accedi al tuo account Ultima Business. Nel tuo account personale, seleziona la sezione Payouts nel menu di sinistra. Nella pagina comparsa ti verrà chiesto di attivare l'autenticazione a due fattori. Questo è necessario per effettuare un payout. Dopo aver abilitato Google 2FA nella sezione Payouts, seleziona il saldo da cui vuoi prelevare i token. Dopodiché clicca sul pulsante Next Step. Si aprirà una finestra in cui dovrai specificare la quantità di token che desideri prelevare e l'indirizzo del tuo portafoglio. L'indirizzo può essere copiato in Smart Wallet. Specifica il numero di token da prelevare. Incolla l'indirizzo copiato e clicca sul pulsante Transfer. Successivamente si aprirà la finestra in cui dovrai inserire il codice di autenticazione a due fattori. Apri l'app Google Authenticator e inserisci il codice mostrato nell'app nel campo corrispondente. Se hai fatto tutto correttamente, vedrai un messaggio che indica che è stata creata una richiesta di prelievo di token. Fatto! Hai effettuato un payout in token ultima. Le informazioni su tutte le transazioni di payout sono disponibili nella sezione Transactions, Payout. Lì troverai la data, l'indirizzo del portafoglio a cui sono stati inviati i token, l'importo, lo stato, l'ID e l'hash della transazione. Per qualsiasi domanda, contatta il servizio di assistenza e saremo lieti di aiutarti. Ti auguriamo un buon lavoro!